Noi siamo stanchi di essere considerata periferia d'Europa. Noi vogliamo diventare il cuore del Mediterraneo, la piattaforma naturale per le navi che attraversano il Mediterraneo. Non è possibile diventarlo se non c'è l'alta velocità. Non ci può essere alta velocità se non si attraversa in tre minuti lo stretto di Messina. Questo è l'appello che io lancio al Governo. Noi siamo stanchi di essere considerati marginali rispetto al continente europeo.